E anche oggi eccoci qui. I puntuali alle 10.45, voi non sapete cosa accade dietro le quinte, è normale. Ieri parlavamo di televisione proprio sulla scorta dell'addio a Raffaella Carrà che naturalmente prosegue anche in queste ore e alla quale so avete mandato anche voi un pensiero, una preghiera. Ma perché è importante comunque ritrovarsi a dirci anche un grazie quando si lavora e davanti alla telecamera e dietro la telecamera? Perché appunto senza un effetto squadra, senza una costanza fino all'ultimo, quel diavoletto della tecnologia che a volte ci mette appunto lo zampino ci sommergerebbe. Ma non è così, noi siamo sempre pronti qui con voi che avete naturalmente tutta la nostra stima e simpatia proprio per quello che ci mandate in termini di feedback. Ecco che dalla regia subito ricevo un'ottima indicazione proprio per ricordarvi che potete scriverci a infochiocciolateleradiopadrepio.it. Sì, qualcuno, una sorta di rondine di primavera già provata ad affacciarsi qui in redazione, ma io vi invito soprattutto a scriverci appunto. Tra poco vedremo anche un gruppo che è passato qui a San Giovanni Rotondo non più tardi di due anni fa e che ci vuole rammentare la sua presenza anche in questo modo. Ma intanto, soprattutto, la nostra diretta vive e si fa viva con voi perché siamo nei luoghi di San Pio, anche dentro, non soltanto in prossimità come per i nostri studi. E infatti siamo tornati nella Chiesa San Pio con Maria Antonia Di Maggio, già pronta da un po'. Buongiorno a te Maria Antonia. Buongiorno a te Maria Pia, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come giustamente ricordavi tu, oggi ritorniamo in questo luogo, la Chiesa di San Pio. In questi giorni ci siamo spostati fisicamente, siamo stati sul sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, all'interno della Chiesetta, all'interno del Santuario di Santa Maria delle Grazie, ieri nel luogo che custodisce la tomba di Fra Daniele, per il quale ieri è stato ricordato il 27esimo anniversario della sua morte. Ma anche se ci spostiamo fisicamente, ci piace sottolineare che questo spiritualmente è un luogo unico, per cui questa Chiesa, la Chiesetta Antica, il Santuario di Santa Maria delle Grazie, rappresentano il luogo di Padre Pio, i luoghi di Padre Pio. E oggi qui da questa Chiesa continueremo il nostro viaggio tra arte e spiritualità, lo faremo come sempre in compagnia di Carlos Sciarra dell'Ufficio Pellegrinaggi, che ci aiuterà a scoprire ancora qualcosa in più. Speriamo alla Santa Messa delle 11.30, che sarà oggi presieduta da Fran Nicola Monopoli. Quindi ancora qui pronti noi e speriamo anche tutti voi che ci seguite da casa per continuare questo viaggio alla scoperta di questi luoghi che ci parlano di spiritualità, che ci parlano di San Pio e che ci raccontano davvero tanto. Per noi è un piacere poterlo raccontare. Grazie Maria Antonia, è sempre un piacere darti la linea, darti spazio, così come naturalmente a tutto il resto della nostra redazione. E intanto voglio farvi notare che Maria Antonia indossa la mascherina, infatti è in un luogo chiuso. E noi quindi vogliamo in questo 7 luglio, che ci porta dritti dentro il cuore pian piano dell'estate, e ci porta anche la gioia di seguire la nostra nazionale di calcio, perché no, vogliamo raccomandare a tutti quello che ci è stato sottolineato già da molti giorni, e c'è maggiore libertà di usare il buonsenso, chiamiamola così. Non dobbiamo pensare liberi tutti. Abbiamo le nostre normative, che ancora appunto impongono alcune regole, però abbiamo anche e soprattutto da non fare azzardi, da non essere imprudenti. Così spero sia accaduto anche per voi, se avete festeggiato il passaggio in finale dei nostri azzurri. Certamente ieri sera almeno il momento dei calci di rigore l'avranno seguiti tutti. Adesso per esempio ho Leonardo che dietro le quinte magari potrà anche dirmi qual è stato lo share di quei momenti dei calci di rigore, se già la RAI ha diffuso il numero. Ma su questo vedremo. Ognuno di voi semmai potrà ritornare idealmente a pensare a questa finale che si preannuncia incandescente domenica prossima, perché questa sera di semifinale ce n'è un'altra. Per noi, finita la parentesi, anche doverosa, perché ci sentiamo molto italiani, lo sapete bene, andiamo allo spazio invece che vogliamo dedicare nuovamente ai Santi di oggi. Inizialmente avevo pensato a un gruppo di beati di Winchester, che è un luogo che si trova in Inghilterra, a proposito dei riferimenti, non soltanto alla storia, però poi in realtà sulla loro biografia si sa pochissimo, perché sotto il regno di Elisabetta I, quindi siamo nella seconda metà del XVI secolo, inizio XVII, ci sono state varie fasi, perché era appunto il primo turbolento periodo dopo l'ascissione, dopo l'arrivo appunto dell'anglicanesimo, quindi si conosce poco, però vi voglio segnalare se avete tra le vostre mete in futuro anche quelle splendide cattedrali del Regno Unito, proprio la cattedrale di Winchester. I Santi di cui voglio parlarvi oggi invece sono i Pontefici, tutti insieme, pensate, i Santi e Beati, su 266 nella storia della Chiesa, ben 82 sono stati proclamati Santi e 9 Beati, quindi abbiamo così a spanne più di un terzo, no, un po' meno, in realtà, di un terzo di Santi e Beati. Questo ruolo che, come sapete, nella storia è stato anche ricoperto da persone, lo raccontava sempre il presidente Scalfaro, da cattolico, prima di diventare lui l'inquirino del Quirinale, diceva vado a pregare nei luoghi dove c'era Alessandro VI, perché è stato papà Borgia, per intenderci, è stato uno di quelli che non ha ricoperto il suo ruolo con particolare santità, eppure la Chiesa è appunto la Chiesa di cui tutti noi andiamo orgogliosi. E allora, in questa festa, praticamente, soprattutto in San Pietro, naturalmente viene ricordata, si celebra la missione di tutti i successori dell'Apostolo e del resto, come sappiamo, Pietro stesso ha tradito Gesù. Quindi, diciamo che l'incipit non è stato dei migliori, però invece i Santi, pensiamo a Giovanni Paolo II, pensiamo a tanti altri, pensiamo a Paolo VI, a questo ventesimo secolo appunto di fioritura di persone che hanno ricoperto il ruolo di Vescovo di Roma con particolare onore, dignità e naturalmente santità, visto che hanno testimoniato in maniera eroica il mandato di confermare i fratelli, che è appunto il mandato principale del Vescovo di Roma. E noi non possiamo che fare riferimento anche al Vescovo di Roma di oggi. Lo faremo tra pochissimo. Intanto facciamo un mezzo passo indietro, perché vogliamo di nuovo ricordare fra Daniele Natale, ieri dopo il triduo di preparazione, fra Mariano Di Vito, ha celebrato all'ore 18, e era proprio il ventisettesimo anniversario della morte di questo figlio spirituale e seguace di Padre Pio. Sentiamo dunque Padre Mariano Di Vito. Fra Daniele, come gli uomini nuovi, quelli che hanno attraversato questo fiume, Iabbok, uno dice che cos'è il fiume azzurro, perché è un fiume ciattolo, forse meno del fortore. Nella Bibbia tutto sembra più grande. Il lago di Galilea è un lago, viene chiamato mare, ma nel mondo antico, nel mondo del deserto, anche un piccolo rivolo, sembra il Guadalchivirro, il rio dell'Amazoni. Ebbene, questo fiume blu, che è azzurro, che attraversa, che anche Fra Daniele ha attraversato, qual è la somiglianza? Che Padre Pio e Fra Daniele sembra strano, ma hanno questa caratteristica che gli accomuna, come le vedo io, tra tante altre cose, non è la sola, è una di quelle a cui facciamo meno caso, che sono stati due uomini, dicevo stamattina, trasversali. Cioè hanno attraversato la loro storia, l'umanità senza distinzioni. Sappiamo, come da Padre Pio, che ha avuto una clientela mondiale, dirà San Paolo VI, dai politici, dagli artisti, come Raffaella Carrà, che abbiamo ricordato ieri sera, e per la quale preghiamo ancora questa sera, dagli attori, dagli scienziati, dagli uomini illustri, alle persone più umili, a voi sangiovannari, i sangiovannesi, che andavate a chiedergli se comprare la mucca o non comprarla, se sposare il figlio o non sposare il figlio. Cioè ha attraversato l'umanità, senza distinzione, fermandosi, non correndo, ma fermandosi accanto come Cristo. Questo, entrare a contatto con la realtà umana, in maniera semplice, immediata, cosa che dicevo stamattina, forse noi dall'altare o i grandi professoroni o intellettuali facciamo fatica ad accogliere e accogliere nel segno quando parliamo i nostri fratelli. Questa trasversalità dell'accoglienza di questa persona. Fra Daniele dovunque andava, dalle case, e lo testimonio, non riveliamo niente che non si possa ancora rivelare, dalle case private agli auditorium, alle chiese, dunque arrivava, aveva una gente di tutte le estrazioni e sapeva avere la parola giusta per ciascuno, perché era un uomo nuovo, perché aveva attraversato quel fiume, aveva avuto questa benedizione che significa si era messo nelle mani di Dio, si era fatto strumento nelle mani di Dio. E poi sappiamo nel prosieguo della parola di Dio, come questo Giacobbe di Venuto Israele sarà padre di dodici tribù e tutta la storia sarà il padre del Salvatore. La discendenza di Davide comincia proprio da quell'attraversamento di quel fiume, da quel cambio di nome. Ecco allora, carissimi fratelli, cari sorelle, nel ventisettesimo anniversario del beato transito di Fra Daniele, facciamoci toccare anche noi dalla sua dolcezza, dalla sua amabilità, dal suo esserci vicino e accanto anche nelle preghiere. Ed è bello che quest'anno il ventisettesimo anniversario coincida proprio con la consegna dell'ultima parte della posizio canonica, la cosiddetta informazio, e quindi attendiamo con ansia, con trepidazione, ma anche con fiducia il risponso dell'autorità della Chiesa. E molta fiducia, certamente, ma avrete notato la bellezza dei fiori nel santuario Santa Maria delle Grazie. Voglio rimarcare che nelle immagini, certo, ascoltavamo Fra Mariano che, e del resto, ieri mattina, grazie all'intervista di Leonardo Fania, ci aveva già spiegato alcune di queste cose che abbiamo sentito riepilogare, anzi, con molta dovizia di particolari anche latini, però è sempre meraviglioso avere una sorta di sinestesia nella liturgia. Questo gli esperti lo spiegano. È importante il suono, è importante la luce, è importante il colore e quindi anche in questo tempo scoprire la bellezza dell'arredo all'interno di un'aula liturgica secondo me è importante ed è un grazie ancora una volta che va a tutti coloro che si occupano di rendere sempre più bello il luogo della Chiesa intera, il luogo del mistero anche, certo, ma anche il luogo della nostra umanità dove tra poco ritorneremo non in Santuario Santa Maria delle Grazie naturalmente ma in San Pio. Prima però andiamo un pochino indietro nel tempo e riscopriamo alcuni pellegrini nelle loro dichiarazioni alla nostra emittente. La mia esperienza con padre Pio quando io avevo 15 anni ero malata ero ingiossata e mi trovavo diciamo a Venezia dove c'erano tutti i malati di ossa io sono stata lì un anno e mezzo piangevo sempre perché pensavo alla mia famiglia ero una ragazzina una ragazza mi dice guarda che se tu scrivi a padre Pio vedrai se ti arriva la risposta si guarirà insomma e abbiamo scritto io e la mia amica è una signora anziana dopo un mese abbiamo ricevuto io e lei soltanto questa risposta da segretaria delle vere fede e infatti io poi sono tornata a casa non ero ancora guarita del tutto e sono arrivata fino adesso a 77 anni portando avanti una famiglia un marito molto ammalato che l'ho perso tre mesi fa per dire per me è stata una grazia e io oggi insomma dopo 60 anni ho voluto venire qua per ringraziarlo tutto lì quando ho visto padre Pio diciamo dentro e pensavo sono tornato indietro i tanti anni e l'ho ringraziato tutto lì allora noi veniamo da Novara e non è la prima volta che veniamo qua sono passati però 15 anni siamo venuti 15 anni fa e devo dire che è un posto molto particolare padre Pio ci ha dato tanto di più e scusate ma ci ha dato proprio a me e ai miei genitori tanto 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 la chiesa è immensa magnifica bella però quello che ti dà è proprio giù nella chiesetta di padre Pio che senti quella pace sei proprio fuori dal mondo qua dimentichi tutto dolore rabbia e vivi quell'attimo sereno bello è una persona che devi credere ti fa capire che devi credere e devi anche chiedere saper chiedere con umiltà e per poter avere quel qualcosa che lui sa capace di darti sicuro bellissima bellissima questa serie di testimonianze io vi devo prima di dare la linea alla regia un numero perché naturalmente ci avevo giurato Leonardo subito ci ha fornito quel dato relativo allo share di ieri sera quando si sono disputate gli ultimi secondi della semifinale 72,6% c'era un motivo ieri sera vedere come andava a finire tra Italia e Spagna però mi raccomando pensate anche allo share di questa emittente fate seguire anche dai vostri amici questi nostri racconti su San Pio anche se ci sono appunto le eccezioni plateali come quella di ieri sera e adesso la linea va alla regia Maria Antonia è già pronta con Carlos Sciarra dall'interno dell'aula liturgica della chiesa San Pio a voi la linea con molto piacere di ascoltare quel che avete da raccontarci eccoci ritorniamo qui dalla chiesa di San Pio dove ci ha raggiunto la nostra guida Carlos Sciarra benvenuto grazie grazie ben trovati lui partecipa sempre con tanto entusiasmo noi davvero come dire lo beriamo di lavoro perché cerchiamo sempre di tirarlo dentro alle nostre dirette però per noi davvero è una fonte preziosa di conoscenza non solo per quello che ci racconta ma anche per il modo che ha di raccontarlo e anche i nostri telespettatori apprezzano tantissimo questo viaggio che abbiamo intrapreso dall'inizio di questo programma questo viaggio tra arte e spiritualità come dicevamo all'inizio allora io passo subito a lui il microfono perché oggi ci parlerà di un'altra importante preziosa opera d'arte presente proprio qui nella chiesa di San Pio grazie Maria Antonia no per me è sempre un piacere perché come ho avuto modo di dire più volte mi piace che la gente sappia è giusto che ognuno si faccia la propria idea ma che se la faccia su dati certi e su situazioni reali non su fantasticherie o cose che ha letto scritte in blog o più o meno pagine facebook improbabili ecco continuando il nostro viaggio l'ultima volta che abbiamo avuto modo di parlare abbiamo parlato del fonte battesimale quindi della parte del portale piccolo dell'ingresso dei catecumeni oggi invece è giusto analizzare la porta centrale quindi la grande porta la porta liturgica di ingresso a quest'aula bene iniziamo con il dire che quella porta quel portale non è l'ingresso del santuario perché dico questo perché in effetti se voi pensate dalle nostre celebrazioni al di là del percorso processionale che fanno i catecumeni di cui abbiamo avuto modo di parlare non esiste un momento in cui noi come assemblea entriamo in chiesa in processione quindi di per sé l'idea di quel portale come lo vediamo centrale grande che deve dare l'accesso a tutto il popolo di Dio di per sé non c'è nella nostra liturgia e invece chi fa la processione quando ci sono le liturgie è il sacerdote quindi il sacerdote seguendo la croce seguendo gli accoliti seguendo quelli che sono i concelebranti a seconda delle celebrazioni è lui che arriva solennemente in processione è lui che deve varcare quella porta quindi di per sé questo portale che noi stiamo vedendo è riservato esclusivamente all'ingresso del sacerdote durante la celebrazione prima della celebrazione in questa chiesa grazie soprattutto a Monsignor Crispino Valenziano in effetti è molto attenta ai percorsi processionali che tanto i celebranti quanto i pellegrini devono svolgere all'interno di questo santuario di per sé il pellegrino che arriva poi avremo voto di vederli in altri giorni arriva dovrebbe arrivare ai piedi della grande croce e di lì fare tutto un suo percorso processionale che lo porta in quest'aula liturgica e da dove entra il popolo di Dio da tutta questa serie di porte basculanti che chi conosce la nostra chiesa ha ben presenti ne sono 24 quindi il popolo di Dio entra ed esce da quelle porte è il sacerdote che facendo il suo percorso processionale che dalla sacrestia nel percorso esterno lo porta all'ingresso dell'aula liturgica parte entra da quel portale io faccio sempre un esempio molto molto semplice per far capire quello che avviene qui è quello che succede per esempio nelle messe del Papa perché forse è più è un'immagine un po' immediata se vedete il Papa è lui che arriva all'altare in processione seguendo la croce gli accoliti alcuni dei concelebranti l'assemblea è già disposta in chiesa quindi diciamo entra ad altri ingressi è già disposta in chiesa e spesso anche i concelebranti quando sono tanti già trovano posto nell'assemblea quindi è il presidente della celebrazione è una parola un po' brutta però quella è il presidente della celebrazione che solennemente arriva all'altare in processione infatti l'ingresso liturgico è posto proprio nel punto più vicino all'altare e che cosa ci racconta questo questo portale innanzitutto è opera anche questa di Mimmo Paladino quindi parliamo sicuramente come ho avuto modo di dire l'altra volta di uno degli artisti internazionali più famosi insieme forse ad Arnaldo Pomodoro e lo stesso Renzo Piano forse sono i tre nomi di riferimento che tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno a che fare con l'arte contemporanea conoscono Mimmo Paladino poliedrico quindi troviamo le sue opere veramente tanto distribuite più o meno sicuramente in tutta Europa sicuramente tra l'Inghilterra e l'Italia e poi soprattutto come un artista che spesso si è confrontato con l'arte sacra quindi guidato da Monsignor Crispino Valenziano realizza questo portale che come possiamo vedere è raffigurato da queste due figure linee queste due figure sono giustamente divise tra un riferimento all'Antico e un riferimento al Nuovo Testamento nella parte di sinistra guardando il portale abbiamo questa figura a linea con tante stelle a raffigurare Abramo Abramo chi è? Il nostro padre nella fede Abramo crede a quella promessa che il Signore gli fa Abramo la tua discendenza sarà più numerosa delle stelle del cielo lui gli dice ma come io non ho una discendenza si sentiva quasi preso in giro lui ormai era nell'età per cui solitamente insomma uno si rassegnava all'idea di non avere una progenie il Signore gli promette che la sua discendenza non avrà mai fine quindi se noi oggi siamo qui a dichiararci ancora oggi noi cattolici figli di Abramo nella fede passando da quel portale non facciamo altro che confermare quella promessa che il Signore ha fatto ad Abramo la sua discendenza è più numerosa delle stelle del cielo e non può essere contata nel portale di destra invece abbiamo la figura di Gesù Gesù il Buon Pastore che lascia le 99 pecorelle al sicuro vedete quelle finestrelle a destra e sinistra dell'immagine sono proprio delle pecorelle nel recinto per dire il Buon Pastore lascia le 99 pecorelle al sicuro e va alla ricerca dell'unica pecorella smarrita che se abbiamo modo di vedere proprio la parte dell'agnello che è posto ai piedi di questa figura appare spezzato appare incompleto un po' riferimento soprattutto al triduo pasquale di questo agnello spezzato e quindi che è riferimento allo stesso Cristo la particolarità di queste due figure qual è? che interagiscono molto con il fedele soprattutto con il con il presidente della celebrazione che che arriva in questa taula liturgica quelle due figure molto linee secondo anche un'intenzione dell'artista stanno un po' a raffigurare una prima parte della croce sai noi sappiamo bene che nelle crocifissioni antiche i condannati a morte portavano soltanto l'asta orizzontale dove venivano inchiodati di per sé il palo quello verticale era già conficcato nel terreno i cosiddetti pali della vergogna così venivano chiamati no? queste due figure linee sembrano proprio quei pali conficcati nel terreno il fedele l'assemblea passando da quel portale completa questa croce in una sorta di abbraccio per così dire per cui si forma anche qui una sorta di grande croce gloriosa e infatti ci sono dei rami di ulivo a scalfino ci arrivi proprio al ridosso di questo portale che completano l'abbraccio di questa croce quindi una croce d'amore è sicuramente uno come dicevo una delle opere più significative più importanti che troviamo all'interno di quest'aula liturgica da cui spesso la gente passa distratta perché distratta da altre cose quindi non si sofferma anche su questi elementi molto molto importanti spesso anche noi passiamo distratti dobbiamo dire la verità e sicuramente queste spiegazioni poi ci aiutano a guardare queste opere d'arte in maniera diversa quindi sicuramente tutti quelli che oggi avranno avuto modo di ascoltare questa spiegazione questo racconto passando davanti al portale potranno coglierne sicuramente il significato e guardarlo certamente con occhi diversi noi ringraziamo Carlos e lo liberiamo perché l'abbiamo già sottratto ai suoi tanti impegni di questa mattina ringraziamo anche la regia perché ci ha accompagnato davvero in maniera impeccabile anche con le immagini che ovviamente sono state le didascalie preziose del nostro racconto del racconto di Carlos grazie ancora Carlos grazie a voi Maria Pia noi restituiamo a te la linea oggi purtroppo non apriamo il solito spazio per la tua domanda sicuramente ne avresti fatte tante però Carlos davvero ha mille impegni quindi restituiamo la linea allo studio grazie Maria Antonia questa volta non hai indovinato però perché volevo semplicemente dirgli quanto sono rimasta colpita dalla bellezza di quel riferimento al patibulum cioè all'altra parte in legno della croce al braccio orizzontale una cosa sulla quale sicuramente anch'io cercherò di approfondire di più il legame proprio con questa chiesa meravigliosa ma a proposito anche di legami che ha citato Carlos cioè che noi tutti conosciamo i legami alla terra di Gesù ad Abramo a tutti coloro che appunto hanno preceduto colui che è per noi il risorto pensate che bella notizia che posso darvi è una vera buona notizia sostanziosa oggi perché si trovano in terra santa dopo 16 mesi i primi pellegrini post covid Roma è la diocesi di papa Francesco che ha organizzato attraverso l'opera romana pellegrinaggi che forse molti di voi conoscono questo ritornare pellegrini nella terra di Gesù e dopo domani oggi proprio è il giorno centrale del pellegrinaggio perché sono cinque giorni dopo domani ritorneranno accompagnati dal cardinale Enrico Feroci e naturalmente noi con il cuore siamo sempre o quasi sempre anche lì forse a volte distrattamente però la voglia il desiderio intenso di rivivere la parola di Dio anche vedendo quei luoghi e sentendo quei profumi guardando quel cielo c'è sempre cosa vi dicevo prima ritorneremo a parlare di Papa Francesco certo perché lo accompagniamo con la preghiera in quello che Giovanni Paolo II chiamava il Vaticano III che voglio citare anche perché non è escluso che Papa Bergoglio domenica prossima sia ancora lì e che la recita dell'Angelus sia proprio da una finestra dell'ospedale Gemelli come sapete c'è il decorso post-operatorio che sta vivendo il Vescovo di Roma con grande serenità e come sapete noi andiamo in onda senza aggiornamenti perché il bollettino arriva sempre più tardi attraverso la sala stampa vaticana però finora appunto i controlli quotidiani di routine sono andati tutti bene la sostanza insomma c'è tutta e noi vogliamo anche ricordarvi che abbiamo già visto la testimonianza di una serie di pellegrini qui a San Giovanni Rotondo potete inviare la vostra foto e come vi anticipavo abbiamo anche noi un'altra foto da mostrarvi eccola già pronta grazie alla regia di Luigi Martino e Antonio Lalla Santa Maria del Carmine di Tecchiena un gruppo di preghiera eccolo qua quindi come vedete siamo proprio in un luogo che tra l'altro è stato anche citato e che vedete se ritornate sul sito teleradiopadrepio.it a proposito della presenza della Carrà qui perché era lì che ha incontrato anche durante il suo spettacolo del 23 giugno 2002 un gruppo di confratelli di Padre Pio e qui adesso c'è il gruppo che arriva da Tecchiena in provincia di Frosinone naturalmente il nostro adesso è quello televisivo perché in realtà era circa due anni fa appunto ma aspettiamo vogliamo che siate anche voi a riprodurre a ritornare appunto a collegarvi con noi se non potete venire fisicamente attraverso i vostri ricordi nessun ricordo ora beh sì ancora un contributo dal punto di vista di quello che è sempre utile durante la giornata e che tra l'altro costituisce spesso una sostanza ecco dei programmi del mattino ovvero le ricette questa volta la rana pescatrice la rana pescatrice questo pesce d'alto mare dall'aspetto minaccioso ha tutte le ragioni per essere arrabbiato è forse l'animale più brutto sul pianeta esistono oltre 200 specie di rana pescatrice la loro caratteristica più distintiva che si presenta solo nelle femmine è rappresentata da un pezzo di pinna dorsale che sporge in fuori sopra la bocca come una canna da pesca da qui il loro nome la sua bocca è talmente grande e il suo corpo così flessibile che di fatto riesce ad ingoiare una preda fino a due volte più grande di lei detta anche coda di rospo di solito viene venduta senza testa e già pulita per questo forse fa meno paura e risulta più appetitosa se accompagnata dalla pasta fatta amorevolmente in casa come questi garganelli e viene da chiedersi noi di che pasta siamo? lina facci vedere bene anche nel dettaglio si taglia un pezzetto di pasta arrotolata si passa sul dito questa non è proprio non sono proprio lisce no non sono lisce perché magari come si tira la pasta si aggrappa un pochino e dici un po' questa pasta come si ricala allora io la faccio con la semola rimacinata un chilo di semola rimacinata un uovo e l'acqua l'acqua faccia d'occhio quindi non va messa la farina no io uso la semola rimacinata non la farina è molto meglio sì oggi prepariamo dei garganelli con un ragù di pescatrice con pomodori freschi basilico e patate le patate come viene cucinato questo allora questo qua vengono sbollentate delle patate fatte a cubetti e poi viene distorsata la pescatrice spadellata con un filo di olio extravergione di oliva aglio basilico ci aggiungo dei pomodorini freschi le patate li faccio amalgamare un po' con la carne della pescatrice e poi nel frattempo che la pasta cuoce è un piatto veloce in dieci minuti è pronto fantastico almeno questa la pescatrice sembra un alimento un ingrediente che non si trova facilmente ovviamente qui siamo sul mare pescata e mangiata Anna Maria ci fa sempre non è venuta bene vero? eccola la rifaccio bene benissimo direi grazie ad Anna Maria per queste chicche è molto affascinante anche quel muso della rana pescatrice mi ha abbastanza impressionato intanto siamo arrivati all'ora di restituire la linea alla regia dove non si mangia ma si lavora di restituire la regia di restituire di restituire di restituire Grazie.